Ed ecco Cecilia e Ignazio, marito e moglie. Sono arrivati in Sardegna e passeranno lì tutta l'estate, per due mesi. Buongiorno a tutti, sono Cecilia Rodriguez, ho 34 anni e mi sono sposata il 30 giugno del 2024. Questo è accaduto veramente, mi sembro un sogno ancora, però è stato incredibile, non so come dirlo. Sto pensando di fare una diretta per poter parlare con voi, magari rispondere al momento a qualche vostra domanda. Perché tramite Instagram sulle storie sarà un casino, fare una storia la cancellerò, non mi piace, la rifaccio. Invece una diretta penso che sarà meglio, sapete come sono io che non sono molto, cioè sono spontanea. Ecco, come avete sentito i miei discorsi così scritti e preparati, non mi piacciono. E quindi magari la diretta va meglio perché ho tanto, ma tanto da ringraziare. Detto ciò come avete visto, in realtà non l'avete visto perché io continuo a pubblicare video, a ripostare. Ma vabbè, è quello lì che sta comunque girando per tutta la casa per capire bene dove sta. Va bene, ieri siamo sborcati in Sardegna, passeremo tutte le estate qui. Niente, stavo cercando di sistemare perché ho una cabina ormai, che non vi dico, meglio della mia di casa. Questa cosa che non ci vuole tanto per essere più bella della mia, più funzionale. Però niente, stavo sistemando tutto, ho tirato il mio beauty fuori. Mi hanno ricordato che c'è una sopra promo, quindi prima di fare il tutto vi volevo fare approfittare. Visto che si sono spesi così tanti soldi, bisogna risparmiare. Vedi, ti metti un po' di grano, guarda l'effetto mio, guarda l'effetto tuo. Io sono pacco, triste, vedi anche un po'. Come triste? C'è una vaga, luminosa, golden. Perché mi sono sposato? C'è golden solo da me. Cecilia per raccontarci tutto quello che è successo al matrimonio e per ringraziarci farà una diretta. Aspettiamo con ansia.